Ben trovati a Orobia Extra, ad ottobre torna Milano Montagna, un festival e anzi qualcosa di più ce lo racconterà una delle fondatrici che è Laura Agnoletto, cofondatrice Art Director e è un evento milanese che guarda in alto nel quale c'è anche un po' di Orobia. Laura parlaci un po' di questa edizione. Grazie Cristina, per noi è un'edizione molto importante, è la quinta edizione, cioè il Milano Montagna Festival, questa sarà appunto la quinta edizione, ma quest'anno cambia faccia, nel senso che in linea un po' con quelli che sono tanti eventi a Milano, non ci sarà più solo il festival nell'headquarter che sarà a base Milano, che è una location molto importante di Milano, ma tutta la settimana, che va dal 22 al 28 ottobre, parlerà di Montagna a Milano. Così mi auguro, visto che è la prima volta. Però devo dire che c'è stato un grosso riscontro, quindi per la prima volta abbiamo chiesto a tante realtà piccole e grandi milanesi di partecipare con eventi organizzati da loro, oppure con eventi organizzati da noi e la risposta è stata importante. Infatti posso dire che anche da un punto di vista istituzionale avremo un evento al MUBA, al Museo dei Bambini, un weekend dedicato a laboratori per bambini e adolescenti e non solo al Museo della Scienza e della Tecnologia, una serata al Planetario dedicata alle stelle in montagna, un evento molto importante per me perché è la prima volta che ci approcciamo anche al mondo dell'arte all'interno di Milano Malpensa, perché faremo una mostra di Armin Link, che è un artista molto famoso, che ha fatto un lavoro molto importante con un video, con un film chiamato Alpi, sul tema antropologico, una visione diciamo più antropologica della montagna. E poi anche il Touring Club italiano che ha aperto i suoi archivi per far vedere delle foto che non erano mai state esposte. Quindi la risposta da parte dell'istituzione è stata grande, però non è solo quello, la cosa che mi è piaciuta molto è stata proprio la risposta anche di tante piccole associazioni sportive che faranno delle corse, delle piccole attività con i Roller Race, di Nordic Walking e sicuramente per me il supporto del CAI Milano è stato molto importante, perché se già l'anno scorso il CAI Milano era un nostro partner, quest'anno ha dato un'importante mano, un'importante aiuto proprio a sviluppare questo nuovo tema. Tant'è vero che il CAI Milano farà proprio delle attività di Orienteering, di Nordic Walking, farà un sentiero al Monte Stella, che per noi è il Monte di Milano, e poi sarà presente anche naturalmente all'headquarter a base. Quindi diciamo che il fuorisalone, che io chiamo fuorisalone in maniera impropria, perché quando si parla di fuorisalone a Milano si parla di quello del mobile, il fuori festival sarà un momento veramente importante e aprirà il giorno 22 con un evento che noi siamo molto felici di poter promuovere, che è l'arrivo di Mesner a Milano, dopo tanti tanti anni. Il festival vero e proprio invece le date? Il festival sarà appunto a base Milano, che è questo spazio del Comune di Milano, perché il Comune di Milano è nostro partner, da sempre ci supporta, quest'anno ancora molto di più, ci ha dato questi spazi bellissimi, e il festival sarà dal 25 al 28 ottobre. E ci sarà anche Orobia in qualche modo, anzi in tanti modi. In tanti modi, perché Orobia è prima di tutto media partner, quindi promuove noi e noi ne siamo molto felici. Ma in realtà ci porta contenuti, contenuti molto importanti, perché avremo una mostra che è stata fatta in collaborazione con la Fondazione Pesenti, dove noi porteremo queste fotografie bellissime che illustrano anche in questo caso non tanto lo sport, che spesso le persone che conoscono e ci conoscono pensano a noi solo come attività sportiva. Invece no, il festival vuole vedere la montagna a 360 gradi. E queste foto bellissime della mostra appunto rappresentano quello che è l'aspetto, anche in questo caso, culturale, sociale, lavorativo. Quindi ci sono alpeggi, perché la mostra si chiama proprio alpeggi, quindi tutto quello che è l'attività in alpeggio. Quindi Orobia è presente anche in questo senso. E in più ci sarà un momento proprio dedicato a Orobia all'interno del palinsesto, che adesso non è ancora online, ma che a breve sarà online, del festival, in cui il direttore di Orobia ci racconterà questa esperienza, che io spero sarà molto positiva, questa nuova partnership. Ho trovato una tua definizione di questo festival, che è una comunità urbana che guarda la montagna. Eh sì, perché Milano, noi siamo a Bergamo adesso, ma Milano e Bergamo sono sicuramente geograficamente contornate dalle montagne. Però se è una città, di fatto soprattutto Milano, è proprio una città. La cosa bella è che i milanesi da sempre hanno un rapporto molto stretto con la montagna. Tant'è vero che, devo dirlo, da quest'anno noi abbiamo come main festival, diciamo, e supportato da Vibram, che come noi ha una realtà molto stretta, una connessione molto stretta tra la città e la montagna. Quindi perché vogliamo dire portare la montagna in città? Perché molti cittadini si allenano, no? Perché ci sono tantissime palestre, per esempio adesso a Milano, in città. Quindi l'attività sportiva dell'arrampicata, della corsa e dell'allenarsi è fatta in città. Però poi questo è un momento, un anticipo verso quello che poi il cittadino vorrà fare in montagna o comunque in colline, comunque all'aria aperta. Quindi la nostra comunità è una comunità urbana ma che vuole portarsi poi in montagna all'aria aperta e vuole fare pratica all'aria aperta. E per quanto ti riguarda lo sguardo da designer sulla montagna? Eh sì, io come dicevo anche prima, Cristina, arrivo in realtà dal mondo del design e le attrezzature sportive sono uno dei temi secondo me più interessanti da questo punto di vista perché chiaramente è design tutto ciò che corrisponde a un'esigenza e quindi cosa c'è di più importante di un attacco da sci o di uno scarpone che deve avere una funzione molto precisa ma questa funzione è legata poi a quello che è il progetto, quindi al design anche. Il design quindi sposa tutti gli ambiti, anche la sedia dove siamo naturalmente ma anche l'attrezzatura sportiva. Nel mio cuore c'è proprio un po' questo desiderio di sottolineare un mondo del design che secondo me ancora è un po' sacrificato, cioè quello di tutte le attrezzature sportive. Ed ecco il mio essere vicino a questo mondo anche pur venendo da un mondo del design dove come dicevo io ho fatto il mio primo fuori salone, parlo del mobile, nel 1987 ed eravamo proprio pochi. Quest'anno facciamo il primo fuori festival e io mi auguro che ci possa essere una crescita così esponenziale e che Milano possa diventare un punto di riferimento per la montagna non solo per Milano, Bergamo, l'Italia ma anche per l'Europa un po' proprio come è stato per il design. Salone, anzi festival, fuori festival, come accedere, come partecipare, come possono fare? Allora, per quanto riguarda il festival, quindi quello dal 25 al 28 a base Milano, le attività sono totalmente gratuite, cioè quello che organizziamo noi in prima persona è tutto assolutamente gratuito e la cosa bella è che è adatto anche alle famiglie perché noi avremo una parete d'arrampicata che appunto verrà gestita dal CAI, dal CAI Milano in cortile, speriamo che non piova, e dai 5 anni in su quindi i bambini potranno anche arrampicare, quindi c'è un'attività di action sport a dentro a base e all'interno invece mettiamo una parete di boulder in modo che si possano sbizzarrire chi vuole arrampicare, chi vuole provare il boulder, quindi ci sono attività appunto sempre gratuite di action sport. Per i più giovani scatenati c'è il momento dei DJ set fino alle 2, le 3 di notte, venerdì e sabato sera, e poi continuamente filmati, meravigliosi, atleti che verranno e ci racconteranno le loro esperienze, magari di qualcuno posso dire anche diciamo quelli forse più significativi o perlomeno sono tutti secondo me interessanti però se io dovessi scegliere uno al giorno potrei dire che il 25 potrei pensare ad Hans Jorgauer che è questo arrampicatore visionario, meraviglioso, che arrampica anche in solitario e senza corda ed è diventato famoso nel 2007 perché giovanissimo ha fatto la val di pesce, la parete del pesce nella marmolada e anche lui continua con queste sue attività sempre in solitario in Himalaia e in altri spazi, in altre montagne. Il secondo giorno diciamo il 26 direi Andrei Bargel perché è questo ragazzo polacco che forse non è così conosciuto ma ha compiuto una cosa che non era mai stata fatta cioè ha fatto la discesa completa in sci del K2. Questa impresa era stata tentata tante volte non era mai riuscita, anzi a volte ci erano stati anche delle riscontri drammatici diciamo e invece lui ci è riuscito e il fratello che è un videomaker col drone ha fatto tutte le riprese quindi noi potremmo vedere queste meravigliose immagini. Poi il 27 Marco Seder perché ce l'ho un po' nel cuore nel senso che è un atleta che è venuto da noi tutti gli anni quindi l'ho visto crescere anche come atleta perché naturalmente è giovane e lui è un freerider, fa freestyle, infatti ha partecipato alle Olimpiadi per freestyle, adesso è impegnato invece al freeride world tour quindi facendo freeride e lui appunto unisce queste due cose del freestyle e il freeride facendo delle discese meravigliose che poi vedremo anche nei filmati. E l'ultimo giorno forse direi Exavie della Rue che penso sia il più grande snowboardista e che attraverso queste discese meravigliose che poi sono state filmate verranno poi riportate durante il festival ecco. Però in realtà ce ne sono tantissimi altri per cui mi spiace non poterli raccontare tutti e spero che verrete appunto al festival così vi emozionerete con noi ai loro racconti. Esatto, l'invito è quindi di andare al festival, grazie Laura per avercelo raccontato e per averci dato veramente tanto entusiasmo per venire a trovarvi e grazie a voi che ci avete seguito da casa.